Nafisa Tujalo sarà in tribunale domani a Manhattan alla vigilia di un'udienza che si annuncia decisiva nel caso de Esca. Secondo l'avvocato della Giallo, Kenneth Thompson, l'ex cameriera del Sofitel verrà ricevuta anzitempo dal procuratore Cyrus Vance perché si assisterà all'archiviazione di tutte o parte delle accuse. Thompson mette dunque le mani avanti dopo settimane di botte e risposta con il procuratore di Manhattan, sempre meno convinto che l'aggressione violente e brutale di cui parla la donna abbia avuto luogo nei termini raccontati. La tesi di Dominique Strauss-Kahn è che si sia trattato di un rapporto consensuale. L'ex favorito alle presidenziali francesi ha goduto della revoca degli arresti domiciliari ma non può ancora lasciare gli Stati Uniti.